Ciao e ben ritrovati da Dr. Loomis In questo nuovo video vorrei mostrarvi un libro che è dedicato a uno dei più grandi, più bravi illustratori cinematografici in circolazione ormai da tantissimi anni Parlo di Enzo Ciotti e del suo volume Il Cinema Dipinto Sono stati pubblicati due volumi, questo è il primo volume, oggi infatti parleremo solamente del primo volume Poi in un altro video parleremo anche del secondo Niente, direi di mostrarvi nel dettaglio questo bellissimo libro fotografico con tutti gli artwork del genio Allora andiamo a visionare questo libro fotografico che contiene centinaia e centinaia di fotografie di altissima qualità Qui come potete vedere c'è anche l'autografo di Enzo Ciotti, nominativo a Giovanni che sarei io Qui nella prima pagina poi abbiamo i ringraziamenti italiano e inglese esattamente come appunto la biografia Sempre nella doppia lingua Ad ogni modo al termine del video vi diremo dove poter acquistare questo bellissimo volume Iniziamo a vedere tutte queste bellissime foto Ad ogni modo dato che con tutta codesta bellezza ogni parola è superfua Direi di visionare questo libro con un bel sottofondo musicale Grazie 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 a tutti. 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 Bene, siamo arrivati al termine di questo bellissimo libro fotografico, abbiamo l'indice con tutti i titoli dei film, centinaia di titoli, ecco qua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.